Si ferma lo stadio Vito Curlo di Fasano, l'avventura in Coppa Italia di Serie D del Taranto che esce ai sedicesimi di finale, 3 a 2 per i padroni di casa il punteggio finale nella sfida diretta. La formazione ionica gioca con le seconde linee, Panarelli schiera il Taranto con Pizzaleo tra i pali che fa il suo esordio poi la difesa 4 con De Caro e Marino sugli esterni, Russo e Dele Teris sono i difensori centrali Matute e Galdian in mediana mentre sulla tre quarti ci sono il giovane Wattara ma non Juniores poi Genchi e Masi con croce terminale offensivo, 4-3-3 invece per la formazione di Giuseppe la terza in maglia gialla. La cronaca è ricchissima, la prima fa da gol, giunge dopo appena 15 secondi di gioco con Cavaliere che da buona posizione spedisce alto al nono e Pizzaleo a deviare in calcio d'angolo un tiro ravvicinato in diagonale di Corvino. Al diciottesimo minuto sugli sviluppi di un corner c'è un colpo di testa di Gonzales con il pallone che termina ancora sopra la traversa. Ventiduesimo, palla gol per il Taranto con croce lanciato da Galdian, il diagonale del numero 11 rosso-blu è impreciso. Ventitresimo dall'altra parte c'è un colpo di testa di Cocis, parata plastica di Pizzaleo. Il Taranto passa in vantaggio al trentasettesimo, fa praticamente quasi tutto Vincenzo Masi, lunga discesa sulla corsia a mancina, poi un pallone in aria di rigore per Wattara che effettua un assist per croce che sul secondo palo deve soltanto depositarla in rete. Fasano 0, Taranto 1, il Taranto potrebbe raddoppiare subito al quarantatresimo. La palla gol questa volta capita sui piedi del giovane Wattara che a tu per tu con Suma si vede respingere la conclusione ravvicinata dall'estremo difensore fasanese. Si va a riposo con il Taranto in vantaggio per 1-0. Nella ripresa il Taranto si fa minaccioso al terzo minuto con un tiro cross di Marino che bacia l'incrocio dei pali. Alla sesto c'è un contropiede di Genchi, il diagonale del numero 9 rosso-blu viene deviato da Suma provvidenzialmente il calcio d'angolo. Al settimo sul corner che ne deriva Russo da buona posizione manda il pallone sul fondo. Al dodicesimo il Fasano si fa pericoloso con un'azione personale di Cocis pallone che comunque di sinistro termina a lato dal limite dell'area di rigore. La svolta della partita poco prima del quarto d'ora al tredicesimo quando Dele Teris stoppa male un pallone in area di rigore glielo soffia Corvino, Dele Teris commette il fallo e l'arbitro il signor Mirabella di Napoli indica il penalty ma non finisce qui perché c'è anche il rosso diretto per il giovane difensore centrale classe 2001 del Taranto che va anzitempo sotto la doccia. Sul dischetto si porta il numero 10 maglia gialla e trafigge Pizzaleo per l'1-1 il Taranto è costretto a giocare però in inferiorità numerica. Al sedicesimo la reazione dei rosso-blu è buona, c'è un palo colpito da Genchi con la deviazione di Suma. Al diciottesimo il Taranto torna in vantaggio, risolve Matute una mischia in area di rigore del Fasano la conclusione del numero 8 deviata ma il pallone si insacca ugualmente il Taranto dunque torna in vantaggio subito al diciottesimo ma trascorrono appena 4 minuti e il Fasano pareggia con Diaz entrato in campo nella ripresa al decimo minuto del secondo tempo al posto di Lorusso. Diaz riesce a realizzare suo assist di Corvino nel cuore dell'area di rigore rosso-blu il piattone nel numero 20 non da scampo a Pizzaleo. Al ventiseiesimo c'è un sinistro di schena parato da Pizzaleo e proprio quando ormai si materializzavano i calci di rigore all'orizzonte giunge il gol del 3-2 del Fasano ancora con Diaz questa volta a scendere sulla sinistra è Diop che mette in mezzo un pallone per Titarelli la cui conclusione viene respinta miracolosamente da Pizzaleo sulla corte respinta del portiere del Taranto la zampata vincente ancora di Diaz che fissa il punteggio sulla 3-2 finale. Una rappresentanza dei tifosi del Taranto presenti in gradinata hanno poi a fine partita contestato la squadra chiedendo maggiore impegno il Taranto dice addio alla Coppa Italia e domenica prossima i rosso-blu andranno ancora in trasferta a Vallo della Lucania contro il Gelbison.